Sala Cavour del Mipaf, un incontro importante, quello tra i consorzi, in particolare la mozzarella di bufala campana D.O.P. che incontra il Prosecco Doc. Presidente, allora, da cosa nasce questa idea di sinergia? Nasce da un'esigenza sempre più a tutela del consumatore. Già in Europa facciamo qualcosa del genere monitorando i mercati con altri cinque consorsi, con parmigiano, con grana padano, prosciutto di parma, aceto balsamico e abbiamo pensato di farlo pure in Italia. A volte abbiamo gli ispettori che sono impegnati su un territorio e teniamo in un'altra parte semmai scoperta. Quindi proprio nord-sud per cercare dalle due estremità di mettere in mezzo il paese e quindi di setacciarlo più continuamente, più assiduamente e mettendo in condizione gli operatori, se c'è stato l'ispettore del Prosecco non ci va la mozzarella, se c'è stata la mozzarella non ci va il Prosecco. Quindi velocizziamo un attimino i controlli, ma nel velocizzare aumentiamo i controlli e quindi questo riesce poi a poter garantire al consumatore finale sempre più attenzione sui prodotti marchiati di OP. Ecco, Presidente, lei ha ben detto ispettori, più presenza, più controlli, ma secondo lei da che cosa ci dobbiamo difendere? Ma in Italia siamo abbastanza difesi, possiamo dirla tranquillamente, è più fuori dall'Italia che c'è l'Italian Sounding, le coppie, quindi fuori dall'Italia assistiamo spesso a degli scempi di etichette che fanno delle evocazioni ma poi all'interno di prodotto non ce n'è nemmeno l'ombra di quello che c'è scritto. In Italia invece devo dire che noi come consorsi più gli enti preposti ai controlli è una nazione sotto questo aspetto molto molto controllata. Anzi, prima si diceva addirittura i nostri cugini francesi quasi ci invidiano un po' il nostro sistema di controlli e quindi il nostro sistema di attenzione nei confronti del consumatore perché noi quello interessa. Questo è vero infatti Presidente, nell'opinione pubblica, nell'immaginario collettivo l'Italia è un paese al sicuro da questo punto di vista, come lei ha ben detto il problema nasce quando usciamo fuori dai confini nazionali. Ecco, lei mi ha ben parlato di sinergie anche in Europa evidenziando collaborazioni con altri consorsi. Quanto è importante continuare su questa strada anche per il futuro? Sicuramente è importantissimo, tanto è vero che noi nei prossimi giorni, probabilmente è un anticipo pure Provolone-Valpadana, entrerà in sinergia in questa operazione e ci auguriamo che da qui a un futuro, non tanto futuro, ma a un futuro prossimo, possano gli altri consorsi aderire a questo progetto ed essere più sinergici possibili, più vigili possibili sul territorio perché il problema è che bisogna essere vigili, bisogna stare attenti e cercare di preservare sempre il consumatore finale perché poi è colui che noi senza di lui non siamo nulla quindi dobbiamo preservarli, dobbiamo cercare di farli mangiare o portare a tavola o bere o mangiare i prodotti che loro comprano da etichetta. Chiudiamo brevemente questa nostra breve chiacchierata, però intensa, dando un pochino quelli che sono i numeri del consorzio e della mozzarella di bufala campana DOP che sicuramente ha vissuto in anni addietro qualche problema relativo proprio al suo territorio di produzione, cosa che non ha toccato il consorzio naturalmente che sempre ha vigilato, però ecco guardando al futuro i numeri della mozzarella di bufala campana DOP quali sono? Sono numeri alti? Noi proprio prendendo spunto a quegli anni bui e proprio in virtù della gente che crede nella certificazione, negli anni bui il consorzio ha chiuso con un più 0,2, quindi un anno nero 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 non siamo mai andati al di sotto. L'anno scorso abbiamo chiuso con un 9,8, siamo a circa 600 milioni di fatturati all'anno, 50 mila addetti, 1.400 allevatori, 106 aziende associate e quindi questi sono un po' i numeri che ci portano e ci danno ragione perché poi la gente ci crede e ci continua a seguire nelle compere di quando scende poi in gastronomia o quando va al supermercato o al ristorante a mangiare la mozzarella di bufala campana. Dopo questa chiacchierata credo che anche gli utenti di Libri.tv saranno felicissimi di queste notizie. Adesso lasciamo il sud, ci trasferiamo al nord per capire anche là quali sono i numeri, quali sono le tendenze future e che cosa porta questa sinergia tra consorsi. Grazie Presidente. Grazie a voi.